venerdì 25 giugno alle ore 19 e 30 presso la chiesa madre di agropoli dei santi apostoli pietro e paolo verrà inaugurata la mostra ecce omo il vangelo nelle opere di andrea guida che cos'è questa mostra è un percorso attraverso le opere di un autore amatissimo ad agropoli nel cilento ma nell'italia meridionale per aver raccontato la bellezza dell'umanità soprattutto attraverso la civiltà contadina ma questo percorso ci offre una lettura diversa nuova una lettura teologica delle opere di andrea guida e quindi si cercherà di vedere come il suo racconto dell'umanità di fatto è un racconto dell'esperienza del vangelo di gesù quindi ci saranno delle opere molto molto belle molto molto datate anche che fanno parte del suo primo periodo quindi parliamo delle opere del secondo dopoguerra quindi un andrea guida forse anche inedito per tanti ma vedremo come la forza espressiva di queste opere riesce a catturare il cuore e l'attenzione di tutti di chi ha fede e di chi non ha fede perché semplicemente parlano dell'umanità un'umanità che poi in cristo si è rivelata nella nella sua pienezza alcune di queste opere non ci sono materialmente più quindi abbiamo dovuto fare un lavoro di recupero attraverso le immagini quindi avremo delle riproduzioni molto molto vicine agli originali di queste opere per presentare questo cammino questo percorso che poi è diventato anche una pubblicazione che ha lo stesso titolo ecce omo il vangelo nelle opere di andrea guida insieme a don carlo pisani che il parroco della chiesa madre dei santi apostoli pietro e paolo a silvio prota che un critico d'arte ad antonio guida che il figlio di andrea guida anche lui è un artista cercheremo di cogliere gli aspetti teologici ed artistici di questo artista straordinario che stiamo imparando a scoprire sempre di più una bellezza e una ricchezza per agropoli e per il cilento che però si propone anche al di là dei confini regionali e nazionali e come queste opere dimostrano anche internazionali perché queste poi sono anche opere che sono state oggetto di mostre internazionali in tutto il mondo questa mostra si inserisce anche poi nel percorso del festival della teologia che svolgeremo in estate incontri perché questa mostra sarà portata in forma itinerante nelle tre diocesi coinvolte nel parco nazionale del cilento vallo di diano e alburni quindi avremo una tappa a marina di camerota proprio durante il meeting del mare quindi la festa dei giovani avrà poi anche l'esposizione di questa mostra poi avremo la mostra a Caggiano nel palazzo Bonito Oliva e poi la mostra a Teggiano presso il chiostro San Francesco quindi anche qui nel mese di agosto in particolare quindi i primi 15 giorni a Caggiano e i secondi 15 giorni a Teggiano ci sarà modo di vedere questa bellissima mostra ma l'appuntamento adesso è per venerdì 25 giugno alle ore 19.30 presso la chiesa madre dei santi apostoli Pietro e Paolo nel borgo antico di Agropoli ed è anche questa un'occasione per prepararsi poi alla festa patronale infatti questa iniziativa per volontà del parroco Don Carlo Pisani è anche inserita nel percorso legato alla novena in attesa della festa patronale